Da oggi, 6 marzo e fino al prossimo 6 aprile, è in vigore il primo DPCM firmato dal nuovo premier Mario Draghi. Le nuove misure e i divieti per l'emergenza Covid-19 accompagneranno la nostra vita per un mese, quindi anche a cavallo delle festività pasquali. Le visite ai parenti durante questo mese continuano ad essere consentite soltanto una volta al giorno. Gli spostamenti per andare a trovarli sono consentiti dalle ore 5 alle ore 22 e nei limiti di due persone che possono portare con sé, oltre ai minori di 14 anni, persone disabili o non autosufficienti conviventi. Draghi ha lasciato invariato l'orario del coprifuoco, che rimane sempre in tutta l'Italia dalle 22 alle 5 della mattina successiva. Nella zona gialla, dalle 5 in poi, è consentito uscire liberamente, rimanendo nella propria regione. Per quanto riguarda i bar e i ristoranti, nella zona gialla si può fare accesso fino alle ore 18. Poi, fino alle ore 22, sarà possibile prendere il cibo da asporto. Viene sempre consentita invece la consegna a domicilio. I negozi e i centri commerciali rimangono aperti dal lunedì al venerdì. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali. Gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili. A eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanterie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. Le parrucchierie e centri estetici rimangono aperti in zona gialla e arancione, chiusi invece nella zona rossa. Le passeggiate e l'attività sportiva all'aperto sono permesse anche presso aree attrezzate e parchi pubblici. Palestre e piscine rimangono sempre chiuse. È possibile visitare mostre e musei dal lunedì al venerdì. Si può andare nelle seconde case anche se si trovano fuori regione, a patto che la regione di arrivo non sia rossa. Chi invece vive già in zona rossa non può spostarsi per andare nelle seconde case.